Essendo andata a 18 anni in Sicilia, l'adolescenza non l'ho vissuta. Lavoro, lavoro, lavoro. Questa è una situazione di tale miseria e i ricchi ne hanno la colpa semplicemente perché sono ricchi. Io alla lotta di classe ci credo. Senza la lotta di classe non c'è movimento della storia. Poi sono passato a Parigi. E a Parigi, insomma, le ragazze, gli amici e soprattutto il cinema. Una delle cose che mi scandalizza degli intellettuali italiani è che sono ignoranti come bestie e che non hanno mai letto le mie riviste. È una generazione che dice io, che è stufa di dire noi. Io lo so, fate finta, fate finta. Che fare, resistere, studiare, guai a non studiare, fare rete, ma non quella porcata che è il web. E ultima cosa, rompere i coglioni.